Hanno ragione i cittadini, dice il sindaco di Pagani. Via Griscuolo, sebbene sia stata attenzionata, è sempre sottoposta ad atti di vandalismo e di inciviltà, per cui abbiamo interessato il comando dei vigili urbani e la locale tenenza dei carabinieri. E quanto prima doteremo la strada ed il parcheggio di telecamere per tenere sotto controllo la zona e tentare di dare sicurezza al quartiere. Riguarda la sicurezza, via Griscuolo, come altre zone della città, sono monitorate da parte mia e da parte del comando della Polizia Municipale e da parte dei carabinieri. Quindi abbiamo avuto delle segnalazioni e io subito le ho trasferite al comando e quindi anche ai carabinieri per poter attenzionare maggiormente quella parte della città. La polizia, come per le altre zone, anche via Griscuolo ha vissuto un qualche giorno di disagio per la raccolta dei rifiuti, ma siamo quasi rientrati nella normalità e quindi credo che via Griscuolo, diciamo, se c'è ancora qualche piccolo cumulo all'interno del parcheggio, lo andremo a togliere. La videosorveglianza non ce n'è in quell'area, rientra tra un progetto di ampliamento del sistema di videosorveglianza che stiamo già predisponendo e credo che a breve dovremmo avere e dare questa risposta anche da questo punto di vista ai nostri concittadini.